buongiorno vediamo oggi cosa ci dice l'oroscopo a riete potrebbe essere un giorno fortunato per voi solo che la vostra proverbiale prudenza vi ostacolerà toro la riconoscenza non è il vostro forte particolarmente in questo periodo smettetela però di pensare che il vostro futuro sia opaco gemelli allegria situazioni piacevoli in famiglia invita un amico a cena bene le avventure cancro qualcuno attende un vostro consiglio è una vostra parola di conforto sappiate fare tutto con delicatezza e amore leone un amico vi offrirà un aiuto disinteressato cercate di studiare bene la situazione per non risultare come quelli che se ne approfittano vergine ostacoli o una prova da superare non fidarti troppo degli altri oggi bilancia giornata discreta per distrarsi un po gli amici saranno particolarmente affettuosi scorpione è bene in questo periodo dedicarsi alle cose che appaiono irrisolte da svariato tempo sia sul lavoro negli affari che in amore sagittario cercate di trovare spazio e tempo dimostrando premura nei confronti del vostro partner capricorno idee speranze aspirazioni potranno avverarsi oggi avrai grande carisma acquario non è salvando le apparenze che riuscirete a impressionare chi vi sta a cuore piuttosto prendete di faccia la situazione e spiegatevi bene e nel miglior modo possibile pesci sarai discretamente affascinante un nuovo amore dietro l'angolo se siete nati di martedì buon intuito questo è tutto ci vediamo domani con il prossimo appuntamento dell'oroscopo